La polizia stradale di Lecco, protagonista del Giro d'Italia. Gli agenti lecchesi avranno un importante ruolo nella scorta della più celebre e prestigiosa manifestazione ciclistica del paese, al via il prossimo 4 maggio in Israele. Il dispositivo di sicurezza della Corsa Rosa sarà coordinato dal comandante della Polstrada Mauro Livolsi, che si avvarrà di tre validi collaboratori. L'agente scelto Giuseppe Tuminello, della sottosezione di Bellano, che condurrà il veicolo del caposcorta. Nonché gli assistenti capo Mauro Cesana e Alessandro Spada della sezione di Lecco, entrambi esperti motociclisti, ai quali sarà affidato il compito di informare costantemente il comandante della scorta su eventuali necessità di rinforzo in particolari settori della competizione, per via dei distacchi di ciclisti sempre in mutamento. L'obiettivo è di scongiurare inconvenienti causati da automobilisti che potrebbero inserirsi sul percorso di gara nel momento in cui passano i ciclisti o i numerosissimi veicoli di appoggio logistico o degli organi di informazione. Un servizio delicato che richiede un impegno molto intenso ed ininterrotto per tutta la durata della competizione. Proprio per questo è richiesta una particolare predisposizione alla visione di insieme, poiché la scorta motociclistica del Giro d'Italia è composta da ben 34 veicoli, 7 auto e 26 moto, tutti collegati via radio. Ad affiancare gli operatori della Polizia di Stato concorrono poi i motociclisti della scorta tecnica privata che hanno conseguito una particolare abilitazione professionale, anch'essi comunicanti tra loro e con il comandante della scorta a mezzo radio. A questi addetti alla sicurezza, che seguono la competizione dall'inizio alla fine, si sommano gli equipaggi messi a disposizione dalle sezioni della Polizia stradale delle province in cui la gara transita. Il lavoro di scorta della Polstrada lecchese inizierà il 9 maggio, quando la gara, partendo dalla città di Catania, comincerà il proprio percorso sullo stivale. Nel corso di tutto il servizio, compresi i trasferimenti dovuti agli spostamenti logistici, ai rifornimenti e ai pernottamenti, i motociclisti e gli altri dipendenti impiegati per la scorta percorreranno circa 7.000 chilometri. Nel territorio lecchese quest'anno non si prevedono tappe. L'unico appuntamento lombardo sarà la partenza della quindicesima tappa il 24 maggio da Abbiategrasso.